Sua complessità, pensa che sono poi così lontani dall'immediatezza dei giorni nostri, dalla tweet politica, ecco, forse ci ricordano che la democrazia è sempre in divenire qualcosa che va continuamente ripensata? Beh, non c'è dubbio, Moro appartiene a un'altra stagione, sarebbe stato infinitamente a disagio in un contesto così veloce, così affannato, così trafelato come quello che è capitato dopo. Una volta il giornalista gli chiese come si poteva riassumere un suo discorso e lui disse pubblicando il testo integrale, perché non era un uomo che accettasse il taglia e cuci sui suoi ragionamenti, quindi sicuramente oggi sarebbe stato un pesce fuor d'acqua. E lei che appunto era stretto contatto con Moro, in quanto ricordiamo segretario dei giovani nazionali dei giovani democristiani, quale pensa che sia il lascito ideale, la lezione politica più importante di Aldo Moro? Che la politica è ascolto ed è pazienza, e nulla matura troppo in fretta. Insisto, non vorrei, come dire, mescolare il sacro e il profano, però noi oggi siamo nel pieno di una crisi che è vissuta con grande concitazione e però rischia di essere straordinariamente improduttiva, mentre Moro con il suo passo più lento da qualche parte riusciva ad arrivare e a portare il paese con sé.